buonasera no ma no ora ho interrotto un attimo perchè mi metto troppo vicino a telecamera si hai ragione notati un po dai poco poco così perfetto dai vai continuo sinistra destra così va bene ai capelli dico sistema dopo bellissimi dai ora vai la quarantesima volta vai ciac cc buonasera e benvenuti allo speciale di halloween che cosa succede ma vedi se questo mi deve fottere il mestiere buonasera sera come sto benissimo tenevo a precisare che questo è il mio special di halloween di natale ok va bene zio sei contento che ne vada a natale io sono molto oh 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 che saccazza ne è quella di buon natale ciao hitler tu sei stato molto cattivo è mio zio è mio zio no 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 oh 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 ho oh non ce la fai ma vuoi fare il gioco vuoi fare il gioco vuoi fare il gioco si ma che fai tu che f*** hai si morite tutti si morite tutti non è stato un bambino cazzo cittadino cittadino sto cattivo non muore ma puoi natale ma non muore non capisco porcovoia ma perchè non parte questa cazzo di slitta non lo capisco l'ho portata al meccanico un giorno fa per dirgli che era natale porcovoia mi servì c'hai interrato è tornato è tornato da v'è porcovoia il meccanico mi ha dato sta hachina io non la so guidare aiutaaaaaaaaaaaa zio ma che succede dov'è quel nazista ma per andare a mio zio era toccate porco voglia le rende solo al meccanico a farsi aggiustare corna proprio non capisco io voglio catturare il pochino io voglio catturare il pochino piacciono il tempo trenino vogliamo ikea trenino a passio cosa pagami il muro che vuole c'era la porta chiuso no 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 niente dovrebbero che vuole lei non mi ha ringraziato a questo non riprende ma che cazzo è finito tutto bombardamento e shon mi serviva una musica di sottofondo del tipo soft certo thanks ciao ragazzi questo era lo special di natale scusate ma questo è lo special di natale e scusami siamo in the banner più basso sta cazzo di musica non capisco più niente sto cercando di parlare non parlare ciao ragazzi questo era lo special di natale non riesco a dirlo noi siamo in the banner quindi spero che il video vi sia piaciuto e spero anche shon sta cazzo di musica ma una morca butta più basso quindi ragazzi se il video vi è piaciuto ricordate di mettere un mi piace e ricordate anche di scriverciando e morto venne qua messiamolo dopo ora babbata di è morto sono io sono io sono io sono io basta anzi sono tu sono tu io faccio l'intro piano piano e allora bene ragazzi ci stavano erano aia questo era il nostro special di natale noi siamo in the banner se il video ti è piaciuto metti un mi piace e iscriviti ricordate che cazzo di scusato conosce lato di merda spero che tu scuogli brutto bastardo ladro s*****o in m*****o non sei altro nono 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 no媽 A altogether E' VIVA IL NATALE! E' VIVA IL NATALE! E' VIVA IL NATALE! E' VIVA IL NATALE! FILE AL METE! E' VATI CHEASSO PARLA! AAAAAAAH! GUNH- AAAAAH! Matt!